A Napoli il complesso museale Sant'Anna dei Lombardi abbatte tutte le barriere fisiche, cognitive e sensoriali grazie al progetto Open Art Museum. Parliamo di un progetto di uno spazio dotato di tecnologie innovative che renderanno pienamente accessibile la visita al complesso alle persone con disabilità autistiche e con altre disabilità cognitive. A gestire il processo legato ad un finanziamento del Ministero della Cultura sarà la cooperativa sociale Parteneapolis, ente che porta avanti i servizi museali del complesso. Sentiamo il presidente Mario Sicignano. La pallora d'ordine del nostro progetto è inclusività, quindi tutto ciò che faremo lo faremo per rendere assolutamente accessibile a tutti. Accessibile non bisogna pensare solo all'accessibilità fisica, all'abbattimento delle barriere architettoniche che è fondamentale ed è un lavoro che va fatto a partire dal nostro museo. Noi contiamo di contaminare anche un po' il territorio, gli esercizi commerciali intorno e quant'altro. Accessibile significa anche accessibilità per persone che hanno problemi di carattere sensoriale, cognitivo. Il Museo di Sant'Anna dei Lombardi potrà offrire servizi finalmente allineati agli standard di qualità definiti dall'articolo 30 della Convenzione ONU per i diritti dei portatori di handicap. Il fiore all'occhiello sarà la mappa tattile multisensoriale posizionata al centro di piazza Monte Oliveto. Ai nostri microfoni Don Salvatore Fratellanza del Comitato di gestione delle arci confraternite commissariate. Questo complesso diventa inclusivo senza alcuna barriera per tutti quelli che ne vogliono ammirare la bellezza, ne vogliono ammirare nello stupore le meraviglie che sono contenute.